Secondo me non gioca. Mi sto riferendo a Dybala, poi magari verrà smentito domani in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, sarò presente quindi vediamo un po' anche di capire la situazione, però saprete ormai dell'esito degli accertamenti, non c'è nessuna lesione, ma c'è questo affaticamento del muscolo del polpaccio e quando c'è un affaticamento difficilmente si va a rischiare un calciatore, specialmente della portata di Paolo Dybala perché poi l'affaticamento, la soglia superiore dell'affaticamento è praticamente la contrattura, se si va in contrattura allora la situazione può sensibilmente peggiorare nei tempi di recupero. Quindi se conosco un po' l'ambiente, adesso la sparo grossa e ve l'ho spuntanato in maniera definitiva, se conosco un po' l'ambiente dico è più no che sì, cioè è più che non, non so nemmeno se lo convoca ragazzi, non so nemmeno se lo, in questo momento, poi magari domani mi fa cambiare idea Massimiliano Allegri perché decide o comunque valuterà sulla base di un ulteriore allenamento o meglio di quello che sarebbe anche l'unico allenamento perché essendogli stato diagnosticato un affaticamento muscolare, immagino che oggi, io ho guardato un po' i filmati, non si sia nemmeno allenato, avrà fatto giusto un po' di palestra, quindi già domani secondo me rischierebbe di allenarsi a parte, fare un differenziato per non rischiare troppo e quindi la vedo dura che Di Bala possa essere presente alla partita contro la Lazio. A questo punto quindi va a delinearsi un po' l'assetto dell'attacco con Morata e Chiesa, però attenzione che c'è Ken che è tornato disponibile, sono sicuro che ha molta voglia in corpo di giocare e poi c'è sempre Caio George perché quando parliamo dell'attacco della Juve andiamo quasi sempre a dimenticarci della presenza di questo giocatore che sta riscuotendo tantissimi complimenti non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista comportamentale, si sono espressi molto bene tutti gli allenatori anche delle giovanili, l'allenatore dell'Under 23 che l'ha avuto per esempio per una partita quando doveva riprendersi dal primo infortunio e tutti quanti poi arrivano un po' di sensazioni eccetera e dicono che è un ragazzo molto posato, molto educato ma molto determinato che sa esattamente quello che vuole e sa di essere arrivato in una grandissima realtà come quella della Juventus se vuole giocarsi tutte le sue chance. secondo me la Juve l'attaccante da far crescere ce l'ha in casa punterei molto su questo ragazzo perché la componente comportamentale e mentale fa moltissimo specialmente a questa età, cioè se tu sei già inquadrato su quello che vuoi diventare ecco perché aveva come idolo anche Cristiano Ronaldo se tu sei già inquadrato mentalmente su quello che vuoi diventare e hai già una marcia in più ma anche due marce in più rispetto agli altri che magari sai arrivano alla Juve se la tirano pure un po' pure la Juve mi ha ripreso e allora sono così importante, non funziona così, non funziona così alla Juve vai avanti se hai l'obiettivo ben fisso davanti, di fronte e ogni giorno te lo metti di fronte, ogni giorno lo sposti un po' più in là e vai avvicinartici poi lo sposti un po' più in là e ti ci avvicini, così funziona la Juventus quindi non vedo perché, ma adesso c'è, era una riflessione che stavo facendo proprio mi è uscita in questo momento qua, siccome ho letto ancora di questo interessamento per Julian Alvarez da River Plate che è un attaccante di 21 anni 21 mi sembra, o giù di lì, forse qualcosa di meno che ha dei grossi numeri, tutto quello che volete però già, attenzione, il River Plate ha fissato il prezzo in 20 milioni 20 milioni, ragazzi, sono tanti sono tanti per un giocatore che gioca oltreoceano quindi che non hai sotto mano tutti i giorni, sotto gli occhi tutti i giorni è vero che esistono i filmati, esiste l'interno, eccetera però un conto è andare a vedere un giocatore che gioca in Europa mandi il tuo osservatore più di una volta andare in Argentina a verificarne le effettive capacità non è così semplice, no? specialmente in un periodo come questo qua e quindi che Gian River Plate abbia fissato un prezzo così alto dimostra, uno, che c'è effettivamente interessamento di più di una squadra due, che River Plate sta cercando di sparare altissimo magari per ottenere qualcosa di meno ma per fare naturalmente cassa mi sembra troppo mi sembra troppo per un giocatore della sua età e credo che la Juventus abbia già in sé, in seno il giocatore giusto da mandare avanti purché, ecco, ovviamente gli si dia sempre più minutaggio per giocare perché è vero che ci sono delle gerarchie magari da scalare Morata, Chiesa, che nella prima soluzione però mi dispiacerebbe rivedere ancora Caio Giorgio negli ultimi cinque minuti di una partita cinque minuti ragazzi per quanto uno voglia spaccare il mondo i cinque minuti sono pochi deve proprio capitarti la circostanza fortunata una serie di combinazioni particolari per portarti a diventare protagonista di una partita in cinque minuti a diciannove vent'anni quindi mi piacerebbe molto vederlo in azione di più e credo, credo che, insomma, i tempi stiano abbastanza maturando Che Juve si vedrà contro la Lazio? Io provo già ad azzardare un filo di formazione perché mi sembra chiaro che la coppia centrale di centrocampo sarà formata da Locatelli e McKennie cioè è giusto dare continuità a coloro che avevano lasciato prima della sosta soprattutto a quel McKennie che abbiamo visto veramente in grandissima forma nell'ultimo mese Locatelli, sì, perché comunque è un giocatore che dà a suo modo ordine alla squadra la manovra è stato due palle così, eh, ragazzi io sono andato a vedermi un filmato della partita Juve-Fiorentina quando, noi disponiamo ovviamente di tutta la partita quindi possiamo andare anche un po' a vedere, a spulciare, no? quando sono nel tunnel che stanno per entrare in campo normalmente c'è sempre chi urla chi dice dai dai, eh, pronti, andiamo, eh, andiamo eh, poco prima beh, a Juve-Fiorentina l'ha fatto Locatelli che era a metà della fila c'era in testa di Bala che era capitano a metà della fila c'era Locatelli ed è stato lui urlare ai compagni a fare il grido di battaglia prima che la squadra entrasse in campo la cosa mi ha, in un certo senso, stupito perché comunque è uno degli ultimi arrivati se non, anzi, l'ultimo arrivato e invece vuol dire che si è già molto ben integrato in questo gruppo Locatelli-McKennie a destra, eh, quadrado a sinistra, eh, Rabiot, ragazzi Rabiot perché Bernadeschi non c'è perché Chiesa andrà a giocare di punta e quindi Rabiot nel famoso centrocampo storico e dietro penso che si vada verso Danilo-Alexandro con, ovviamente, Bonucci e De Ligt perché Chiellini ovviamente non è disponibile così come De Scilio che si pensava potesse recuperare già per questa partita però vedete, vedete il solito discorso la cosiddetta prudenza della Juventus ha posticipato di qualche giorno sui tempi che erano stati fissati più o meno per De Scilio come si era detto con la Lazio però, insomma, non c'era tutta questa certezza alla Juve è così alla Juve è così non dimentichiamo che alla Lazio mancheranno Pedro e Immobile non si guarda in casa di un'altra squadra noi siamo un canale che si occupa di Juventus però, quantomeno, fa specie il fatto che alla Lazio manchi l'attaccante principale occhio per occhio e Sarri le soluzioni anche lui le sa trovare quindi, secondo me, alla fine se manca di vale una parte e Immobile dall'altra la situazione è più o meno equilibrata, direi, no? iscrivetevi al canale iscrivetevi a quello del mio figlio iscrivetevi sui social noi ci vediamo domani domani dopo la conferenza stampa di Massimino Allegri non immediatamente perché dovrò naturalmente confezionare il servizio per le 13 di Sport Medias ma comunque avremo modo di parlare di quanto ha detto Allegri e soprattutto se avremo indicazioni ulteriori su Dybala e sulla formazione ciao ragazzi